bambini come state finalmente è arrivato il momento di tornare a scuola io ho sempre la tremorella quando devo tornare a scuola andare a scuola è un po come fare una scalata in alta montagna si fa fatica si suda a momenti si ha un po di paura bisogna tenere gli occhi aperti guardare dove si appoggiano i piedi ma arrivati in cima il panorama è meraviglioso e si respira una buonissima aria fresca e pulita così a scuola a volte è un po difficile studiare fare i compiti fare silenzio quando la maestra spiega giocare insieme e rispettarsi l'un l'altro però solo così diventeremo piano piano forti e capaci di ragionare e prendere anche delle decisioni giuste e poi è bello imparare cose nuove conoscere il mondo che ci circonda lo so che a volte potrebbe venire la voglia di non andare a scuola o di non fare i compiti ma sapete una cosa ci sono posti nel mondo in cui i bambini vorrebbero tanto andare a scuola ma non possono perché sono poveri o perché c'è la guerra e allora dobbiamo ricordarci che siamo fortunati ora bambini vi saluto ma tornerò presto a trovarvi vi auguro che sia un anno di scuola bellissimissimo fantasticissimo e pienissimo di nuove conoscenze e se avete qualche domanda scrivetemi ciao bambini lnj è curiosa lnj è sorriso vieni con me vieni con me con te per conoscere insieme in un modo diverso il bello che c'è il bello che c'è lnj è con te lnj è piccola ma crescerà dolce e tira serenera e vispa e furbetta lnj è gioia e luce porterà lnj che cosa aspetti accoglila lnj ti abbraccia di già lnj è con te lnj è con te